... La squadra canadese, la squadra vincitrice, la vedeva 300, agli ogni piedi di vantura, e ancora la mandorale con il cambio per la Park, Alceplina, Brenda, Julie e la Giapponese. Sancai con Kalina Roberts sul campo dell'Italia che rimane in terza posizione dobbiamo controllare il Giappone con la Corea quindi il Canada in prima e seconda posizione il Canada deve essere con la terza piazza per salire sul fondo di questi campionati e spunto la squadra e andiamo su, lo spugbiamo la squadra italiana per stuttura ginante andiamo ancora a Sundays 1, 2, 3 e ancora con screwed in Germany e ancora tutte le avi queste l'intenzione siamo a basso bin Victory dal foglio vogliamo più delle stesse spazio e se si accolgono iированissimi la Corea è sul campo dell'Italia la classifica si fa sempre, la Romeroz è sulla campagna di Stenemone carica, la proletta ancora, la giocamata di questa fredda con la giocamata di questa finalista, la vantola e la data, la giocamata di Stenemone, la calcio di Leclerc, la mia visita è un'esercizio di carriera, l'Italia sempre in seconda parte, l'Italia contro l'altro il cuore Prove a un'altra parte di Italia, la posizione della squadra per il Vigiliano, vince a spostare sull'attività, la moglie, a un tiro, dal Zampone lo passano, veniamo su un'ora, facciamo la sentire, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte, prima viene inizia la propria, chissiamo, non faccio via, lo saprai, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte , adesso van a cercare la punizione, остando uno, a sfruttando la passata dal Zampone, cambiamo disattendo, il physique all'ultimo campo, – 쩝- trappe esúsica – Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!